Dopo il record di incassi della scorsa domenica, oltre 50.000 euro in ricavato, è tornato il mercatino dei ragazzi del Calcit, questa volta a Ceciliano. Siamo veramente contenti di poter essere giunti a questa dodicesima edizione, che non è un numero elevato ma è un numero molto importante per noi, il che significa che siamo riusciti negli anni ad avere un'aggregazione. Siamo riusciti in particolar modo a portare tanti bambini e abbiamo coinvolto la scuola di Ceciliano da diversi anni e siamo veramente contenti che sono presenti, sono veramente loro che fanno l'anima veramente di quello che è il mercatino. Sono stati raccolti circa 15.000 euro, anche in questo caso destinati al servizio scudo di cure domiciliari oncologiche. Ci stiamo in qualche modo mettendo l'anima per poter dare il nostro contributo, è un contributo importantissimo soprattutto per lo scopo. In questa occasione ringrazio tutti gli aritini che sono venuti a trovarci, sei evidente che ancora questo mercatino, il Calcite, fa aggregazione e serve.